Salve, bentrovati, bentrovati ma soprattutto un buon Natale a tutti voi dalla redazione, dal telegiornale, dalla direzione, dai tecnici, un po' da tutti noi. Un Natale, Natale sempre occasione di riflessione, l'ha fatto l'Arcivescovo di Siracusa, Pappalardo, invitando a, oltre a farci gli auguri, anche a pensare agli ultimi. Lo voglio augurare a ogni uomo, ripeto, a chi è più in stato di necessità, di bisogno di non perdere mai la speranza, del resto il Papa ce lo ricorda, non lasciamoci rubare la speranza. E allora un anno nuovo che si apre, viviamolo come dono del Signore perché ogni anno è sempre un dono, la vita è dono del Signore, viviamolo con speranza, con gioia. Auguri a tutti, grazie a voi che mi permettete di dare questo messaggio a quanti seguiranno le vostre emettenti. Buon Natale e buon anno nuovo. E meno fortunati pensa anche un'associazione siracusana, l'Anfas, che come ogni Natale riunisce le famiglie. È un Natale di grande riflessione per le famiglie dei disabili. Come sempre l'appuntamento dell'Anfas è nella sede di Via Brenta per offrire ai ragazzi uno squarcio di emozioni e di coinvolgimento. La recita è il momento saliente di un lavoro che riguarda non soltanto gli operatori. Anche quest'anno per la ricorrenza del Santo Natale e del Capodanno l'Anfas di Siracusi e l'Assofati insieme hanno preparato con i nostri ragazzi questo spettacolino augurale. Questo è un modo per santificare la festa e per portare fuori anche di qua l'augurio che parte proprio per noi da qui e lo rivolgiamo a tutta la città. auguri a tutti per un Santo Natale e un profigo e un sereno anno nuovo, che è quello che tutti desideriamo. Il resto poi ci affidiamo al nostro Onnipotente che ci possa aiutare a seguire sempre in questa missione. Una delle categorie lavorative considerate le ultime, nelle situazioni più drammatiche, parliamo degli edili, però dopo lo sciopero generale sono arrivate le proposte. Crisi economica e il lavoro sul territorio siracusano, la cenerentola dei comparti sarebbe secondo i sindacati di categoria quello degli edili. Troppi numeri in diminuzione, poco il lavoro, troppo anche il lavoro nero. Fine anno drammatico per il comparto dell'edilizia, di parla della cenerentola dell'economia locale, ci sono un sacco di ditte che hanno chiuso, un sacco di lavoro nero? Un sacco di lavoratori disoccupati. L'edilizia continua a essere ignorata dall'opinione pubblica relativamente al fatto che il numero dei disoccupati continua ad aumentare nel settore dell'edilizia e continua a non essere considerato e non viene valutato il fatto che il lavoro nero ha presso una piega ormai devastante, che le aziende sane stanno scomparendo e stanno emergendo sempre più le aziende parassite che obbligano i lavoratori a orari assurdi, paghe inenarrabili e condizioni di lavoro forse neanche ai tempi del medioevo. Lavoro nero a volte si pensa che il lavoro nero vuol dire che il lavoratore si intasca i soldi e finisce lì, si intasca pochissimo, non ha copertura di alcun tipo. Guardate, noi siamo appena ritornati da una riunione che abbiamo fatto all'EACP, all'Istituto Autonomo Case Popolari, per un'impresa che non ha ancora pagato lo stipendio di ottobre. Parliamo di un appalto pubblico e quello è un lavoro nero a tutti gli effetti, perché se tu non rispetti i diritti contrattuali stai facendo lavorare in nero i tuoi lavoratori. Questa è la situazione dell'edilizia. Il campo di guerra quando voi fate il conteggio di chi non c'è più nell'ambiente del lavoro edila? È devastante sotto tutti i punti di vista, c'è un settore che è stato letteralmente massacrato. Ormai sono scomparse anche alcune figure. La classica figura del manovale in cantiere è scomparsa, perché si utilizzano per manovali i vecchi secondi livelli. Insomma c'è proprio una situazione drammatica che è aggravata ovviamente da questa diffusa illegalità che stiamo riscontrando sul campo. Svolgere gli esami conclusivi dei corsi di formazione alla Camera di Commercio di Siracusa e non al Catania, il monito che lancia il Presidente Merito Linguanti. Il Presidente Merito di Confesercenti Arturo Linguanti ha preso carta e penna e ha scritto una lettera aperta al Presidente della Camera di Commercio del sud-est della Sicilia, Pietro Agen. Gli ha sollecitato la soluzione del problema degli esami dei corsi di formazione professionale che vanno fatti tutti a Catania. Il Presidente Linguanti, componente del Consiglio della Camera di Commercio, ha posto all'attenzione del Presidente Agen una questione che dice «mi sta molto a cuore». La Camera di Commercio di Siracusa rischia di diventare un grande contenitore privo di reale contenuto. Vorrei suggerire di ripristinare alcune funzioni per rendere effettivo lo storico presidio degli imprenditori siracusani che si sta lentamente trasformando in un mero archivio di atti amministrativi. Mi riferisco ad esempio, proseguo Linguanti, all'opportunità di riabilitare la Camera di Commercio di Siracusa a quale sede per lo svolgimento degli esami di abilitazione di agenti immobiliari, ferma restando alla competenza della nuova Camera di Commercio per la scelta e la designazione degli esaminatori. Riterrei opportuno, suggerisce Linguanti ancora, riattivare il servizio anche per evitare che coloro che hanno svolto il corso di formazione nel luogo di residenza siano poi obbligati a trasferirsi a Catania solo per sostenere l'esame. Bentornati, in seconda parte del nostro telegiornale si va verso la stabilizzazione dei 150 addetti tecnici e amministrativi della scuola con contratti CoCoCo. Evidente che la protesta difesa dei diritti ai lavoratori abbia dato i suoi frutti sono le parole del segretario generale della CGL di Siracusa Roberto Alosi e del coordinatore provinciale del NIDIL Pippo Leone, dopo la notizia dell'approvazione da parte della Camera dei Deputati dell'emendamento che stabilizza i circa 500, 950 in tutta Italia, lavoratori CoCoCo che svolgono funzioni ausiliari e tecnico-amministrative nelle scuole siciliane. L'emendamento ricordano Alosi e Leone era scomparso in Senato ma è stato ripristinato nel passaggio alla Camera della legge di stabilità nell'ambito di un ex emendamento e tutto ciò è da ricollegare alle pressioni del sindacato con le manifestazioni indette da CGL e NIDIL a livello nazionale a partire da Siracusa, città in cui c'è il maggior numero di CoCoCo, oltre 150. Una serie di manifestazioni con cui abbiamo fatto leva anche sull'aspetto economico della vertenza, concludono Alosi e Leone mettendo in rilievo come la stabilizzazione non avrebbe comportato allo Stato una spesa maggiore. Insomma, dopo vent'anni di precariato finalmente si raggiunge la stabilizzazione del rapporto di lavoro. Gli auguri della Marina Militare è sempre allerta, li fa l'ammiraglio De Felice, il comandante di Mari Sicilia. La Marina Militare è in prima linea per tutte le emergenze e le esigenze dettate dalla situazione contingente dovuta allo sbarco di migranti che solcano il Mediterraneo. Natale è un momento di unione ma anche di riflessione, come ci spiega l'ammiraglio De Felice. Le forze armate celebrano la ricorrenza del Santo Natale ricordando le attività che fanno e che svolgono a favore e a tutela della patria e delle libere istituzioni. Come Dio si è trasformato uomo per servire l'umanità, così le forze armate e il personale militare e tutto serve la comunità in tutela della difesa della patria. Parliamo di un romanzo adesso che racconta in modo particolare la disabilità, lo fa una madre a quattro mani col proprio figlio. Un incontro letterario che è anche un viaggio nella vita di ognuno di noi e nel rapporto con i diversi, ma è anche la grande storia d'amore che lega una madre al proprio figlio. Simonetta Agnello Ormi ieri a Siracusa insieme con lo primogenito George colpito da una malattia che ha cambiato abitudini e sguardi sul mondo. L'incontro, curato da Bernadette Lobianco, presidente dell'associazione Sicilia Turismo per Tutti, rientra in un tour sia per la presentazione del libro, ma è anche l'occasione di far riflettere sul difficile tema dell'accessibilità delle città, la fruizione dei beni culturali e appunto del turismo per tutti. Stasera siamo qui per una grande occasione, praticamente stiamo presentando il libro di Simonetta e Giorgio Orbi, Nessuno può volare, siamo orgogliosi di avere a Siracusa due grandi autori, si parlerà di turismo per tutti, di viaggio per tutti. Sono veramente commossa di essere in questo posto meraviglioso che non avevo mai visto prima, in una città meravigliosa e spero con Giorgio che possiamo condividere con tutti quello che sembra così ovvio, che gli spazi appartengono a tutti, anche ai non abili, a chi ha bisogno di una carrozzella o di altro e per celebrare in un certo modo l'undicesimo anno della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti dei disabili per noi, per l'Italia è un po' meno, però anche l'Italia l'ha firmata. Sono avvenute tante belle cose in Italia da allora, ma tante altre devono venire. I disabili hanno tutti i diritti degli abili di godere, contribuire e far sì che il nostro paese sia loro come nostro, soprattutto sapendo che da anziani saremo tutti più o meno disabili se superiamo i 75 anni. Buonasera, sono qua per parlare un po' dell'accessibilità dei cittadini ai loro luoghi. Spero che come me voi pure potrete accedere dove volete nella cittadina di Siracusa. L'accessibilità è una delle parole chiave di una città moderna, di una città che appunto sia... Bene, con questo si conclude il nostro telegiornale. A voi, ancora una volta come in apertura, gli auguri di tutta la redazione del telegiornale di Tele 1 Tris, della Direzione e dei Tecnici. Grazie a tutti. Grazie a tutti.